Buongiorno a tutti, sei Marika e voi sei Pasoletta. Ce da voi me lei è un amice. Un amice da voi oreie longe e longe. Lei lo la pinde pacchie. E sei cazzo chura che due ozze delle longe oreie la caccia ardie. Di chi ne dice i ting? Oi. Ma di chi è lezza? Di cocone. E' una buista di cocone. L'avrissene? Oi. Vrissene. Dei bei cocone di tante colori. In cocone? Rosse. In cocone? Arancione. In cocone? Gianno. In cocone? Verde. In cocone? Bleu. In cocone? Violette. Sono fra i colori colori dell'arcansiel. Ma di chi è? Ma di chi è? Di chi è puoi fare di cocone? Fai mi pensare? Porrino. Porrino, lei è caccia. Con sci. Con sci. Con de pacchie. Se cocone. Con hue. Con no. Con de pacchie. Di cocone per me. No, per me. No, per me. No, per me.